Bentornati su MyFootballGersey. Quella che vedete in questo momento è la prima maglia del Bayern Monaco per la prossima stagione, la 2023-2024, in edizione FAN. FAN. Wow, la maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Sono rimasto veramente stupito dalla qualità. Sembra quasi una versione player. Qui in alto vedete il costo, che per questa maglia è estremamente vantaggioso. Tra l'altro include anche le spese di spedizione. Andate a vedere qua sotto in descrizione perché trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 5 dollari. Quindi, beh, fate voi i vostri calcoli. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, mi raccomando, lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.